Buonasera Senti volevo bene, non è che ti dicevo Ti voglio proprio bene, è difficile Ma ci sento la parola del mondo Lei è triste per me Che voglio dirvi Allora, a fine vacanza facciamo tutti un brindissimo peperonca Bizzolino che penso Sentimentale Mi sto Emozionando Allora lo faccio io Ah dai Ah Ma mi fa venire sempre, è bruttissima Eh Imo, ma gli altri Ma cosa? Mi attaccano, mi offendono Se la prendono con me Io urlo disperata, sarà dove Metto la musica E non va bene Pulisco, non va bene Mi attaccherò sto pene Scevo, scevo, scevo E che Sara è l'unica ragazza che mi difende in questo gruppo Vediamo la E questo è l'ingibit Mi ha detto che sono cicciona E io ho visto una statuetta cicciona E ho detto Oh, guarda che bella statuetta cicciona Ora la guarda La regalo a Sara Ora, se ognuno di noi intende ciò che vuole Il mondo va a scatafascio No, perché la statuetta cicciona prima voleva dire segno di prosperità eccetera Esatto Io speravo che tu potessi essere prostera Con il tuo marito, tua figlia Per farne una quindicina Quando lui si è reso conto che aveva detto proprio quelle cose E mi ha guardato, cioè si è girato così Dopo il cappuccino fumavamo marijuana Vuoi ringraziare la belfa con un'altra canna Veronica è una scimmia Ma te sei una scimmia Una scimmia con gli occhiali Che l'ha fatto un bambino Come siete? Era Angelino eh Angelino sei una merda E noi Siamo di aceto Coltelli e forchette E chiucchiaini all'infinito E noi mostriamo il terzo dito Auawe Buonasera Perfetto 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 come te Silvietta Hanno chiesto la nina nana Quindi arrivo Io volevo snuzz E la mia colma che diventa Cluskarts Io volevo giocare a basket Sto smuffando Casper Auawe Spero non passi da Ghostbusters Quanto a me Blanca Quanto a me Quanto a me Quanto a me Che cosa è che dici? Ormai senza un minimo di pudore Ma non mi fai così Spero non passi da Quanto a me C'è un piccolo ora sta facendo a te il video che ti fai in acqua pensate a questa quanta scheggiata saluta vero oh mamma perché sei entrando in retromarcia? è un camion questa è la chiesa di Cristo Re dell'universo di Cristo dell'universo? Cristo Re dell'universo si chiama Cristo Re dell'universo no, Cristo Re si chiama la Bibbia cioè la chiesa verrà solo la Bibbia Cristo Re dell'universo che cos'è? chi è? a presente Gesù Cristo Re dell'universo ah Re dell'universo Cristo Re dell'universo che poi mi intrippava il cervello l'universo sarebbe il luogo di massima no, tipo Superman di Gotham Cristo Re dell'universo che cazzo sta va a dire Luigi sei uno sbrattino è dopo Arlettino quindi grazie a tutti i due giorni grazie a tutti i due giorni che si chiama la Bibbia